Nella seconda metà del secondo tempo loro sono riuscite a imporre il loro gioco grazie ai cambi numerosi, noi abbiamo mollato un po' non solo di fiato ma anche di testa, è stata una partita tirata come hai già detto e poteva andare meglio. Si chiude il girone d'andata, potevamo avere qualche punta in più, abbiamo perso qualche occasione la prima di campionato come anche a Teramo contro Nuoro a Nuoro e in casa il derby con Ferrara, speriamo bene per il girone di ritorno e cerchiamo di conquistare la quarta posizione e giungere ai playoff. Sì sicuramente siamo contentissime, questa partita è stata un po' sofferta soprattutto nel primo tempo, infatti è finita in pareggio. Fortunatamente poi siamo riusciti a riprenderci nel secondo tempo, riuscendo a portare a fare questo vantaggio con diversi contropiedi e dei tiri che fortunatamente sono riusciti ad entrare perché abbiamo sofferto anche un po' abbiamo sbagliato un po' tanti tiri, abbiamo preso abbastanza contropiedi nel primo tempo però fortunatamente abbiamo concluso il girone d'andata senza sconfitte. Secondo me questo campionato è molto competitivo nel senso che non c'è per il momento una squadra molto più forte rispetto alle altre. Ovviamente il girone di ritorno ci servirà per vedere chi ha più carburante fino alla fine, che poi avremo questa fase ad orologio e poi arriveranno i play-off. Noi contiamo di arrivare prima fino alla fine per i play-off.